Siamo con il capogruppo alla provincia di Sinistra e Libertà, il dottor Giovanni Mariotti, che è anche medico-chirurgo all'ospedale, per parlare di una questione di cui lui è, tra virgolette, doppiamente competente, sia come rappresentante politico che come medico. In questo caso parleremo dell'annosa questione del nuovo ospedale di Vasto alla luce delle ultime dichiarazioni dell'assessore alla sanità Venturoni. Allora, dottor Mariotti, partiamo da cosa ha detto Venturoni. Parliamo prima di questo e poi lo commentiamo. Venturoni esplicitamente ha detto che in Abruzzo ci sono almeno cinque ospedali, fra cui quello di Vasto, Sulmona, Avezzano, Lanciano, che sono ospedali da rottamare, perché non hanno le caratteristiche antisismiche che un edificio pubblico come un ospedale dovrebbe avere. Quindi si ripresenta, come hai detto tu Orazio, questo annoso problema dell'ospedale civile di Vasto, del nuovo ospedale civile di Vasto. Sembra una storia infinita. Parte dall'allora consigliere regionale Spadano, che volle iniziare questa pratica per far sì che il nostro territorio avesse una nuova sede che potesse naturalmente dare dignità a tutta la popolazione del Vastese. Io penso che dovremmo tutti insieme, la politica soprattutto di destra, di centro, di sopra, di lato, sindacati, convindustria, prendere di petto questa situazione, perché ormai non possiamo più tollerare che un politico di turno ogni volta che ritorna a questa situazione fa delle dichiarazioni per dire sono favorevole, però. Sono favorevole, però. Dobbiamo trovare le condizioni per trovare effettivamente i soldi, perché tutti sappiamo che i soldi non ci stanno. Cioè che la regione non ha i soldi per lanciare queste promesse venturone, dove le andrà a trovare i soldi per costruire cinque nuove ospedali. Il problema è che naturalmente questo territorio che è stato sempre bistrattato e che continua ad essere bistrattato all'incirca da venti anni da questa parte, non può permettersi ulteriormente di essere preso in giro. Per cui io faccio un appello a tutte le forze, non solo politiche, ma anche della società civile, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni anche di convindustria, per mettersi insieme e io uso un termine abbastanza forte per permettere una ribellione, ma civile, sempre civile, una ribellione, una protesta in modo da essere convincenti per quanto riguarda la regione a trovare i fondi affinché si sblocchi questa situazione del nuovo ospedale civile di Vasta che tutti naturalmente abbiamo la necessità di attuare. La direzione sta facendo per quanto riguarda l'ospedale di Vasta? Nulla questo per quanto riguarda la ristrutturazione perché naturalmente questo ha dato dignità a un ospedale obsoleto come quello di Vasta. Però il problema è che nel frattempo che venga alla luce questo nuovo ospedale, tutto ciò che si sta facendo per migliorare le condizioni del nuovo ospedale civile di Vasta benvengono perché è praticamente inaccettabile continuare ad avere degli ospedali obsoleti che non diano naturalmente né la sicurezza per quanto riguarda le norme antisismiche ma soprattutto non diano indignità ai pazienti che vanno in un ospedale già sofferenti per la loro patologia e trovano delle condizioni igieniche e sanitarie non confacenti. Per cui tutto quello che sta facendo la direzione generale dell'Als Lanciano Vasta va naturalmente preso in modo positivo e continuare a utilizzare quei pochi fondi che sono veramente disponibili per migliorare l'ospedale civile di Vasta.